Non si placano le polemiche legate al nuovo ospedale di Cremona. Sotto la lente, il progetto dal punto di vista architettonico. Un nosocomio non è costituito solo da mura e nasce e si sviluppa con finalità ben precise e dovrebbe dunque avere al proprio interno un insieme di presenze di figure altamente preparate ai fini dell'ospedalizzazione. Le modalità utilizzate per la nuova struttura cremonese sono state vietate in Veneto e a Ferrara, ad esempio, nonostante la costruzione fosse lontana dal centro storico, molti ambienti sono stati abbandonati. Il problema è un altro, è il bando di concorso cui lui è stato costretto a fare determinate scelte che non mi sembrano congrue rispetto a quella che è la finalità di un ospedale come tale. Nel progetto sono infatti inserite altre caratteristiche. È compresente la ristorazione e altrettanto tutto quello che riguarda il commercio e questi due elementi uniti poi quasi alla possibilità di considerare tutto quanto l'ambiente come un ambiente, diciamo così, di condivisione con i cremonesi sani, tra virgolette. Ecco, tutto questo mi sembra abbastanza scorretto. Gli ospedali sono stati portati fuori dalla città per un motivo fondamentalmente di salute pubblica. Era opportuno che fossero completamente isolati dalla cittadinanza. Non solo. Si parla di un progetto che deve essere empatico. Direi che forse qui il termine empatia andava declinato entro quelli che sono i suoi significati più profondi. Allora uno va a giocare, a mangiare la pizza ed è empatico con l'ammalato? Mi sembra un po' una contraddizione. Anzi, mi sembra una sorta, lasciatemi passare, il termine di presa in giro nei confronti delle persone. Grazie a tutti.